Benissimo Leviamo Kled dai Veramente forte ragazzi E' il mio primo giorno senza Droga fammi auguri Grande Dio bravissimo Che con che cosa ti drogavi? Tutto? Marijuana? Cannabis? E' la stessa cosa? Cocaina? Alcosa equittato Oppio Minchia Tanto Oggi sei antipatico? Ma in realtà Sì perché rispondo a messaggi Antipatici in maniera antipatica Ovviamente perché se uno mi dà Male rispondo male E' La live non è nemmeno tanto brutta Però sto facendo un po' il bullo Sempre con i bulli Mai con i buoni Però apprezzo la tua critica Ha senso Per oggi non batterò più win Questa cosa mi fa stare male Molto male E' il primo messaggio che scrivo in Chelsea E' molto bello con questa giacca Genzo grazie Lo sai che l'ho rubata? Baciami stupido Paolo mi piaci versione bullo Ti bubi sempre i minuti di tre Non vuoi essere bullo ragazzi Voglio solo che passi il concetto Che se uno mi Mi attacca Non è che lo fa Mi fa ridere Oh Questo non vuole per le prese per il culo divertenti Però Se spammate Sei pelato Per un mese di fila Sicuramente non è originale C'è d'accordo? Hank mi sta ostando con 1437 spettatori Ma sono tantissimi Hank Ma soprattutto Per fortuna Ne sto facendo di nuovo di più io Grazie a Dio Ovviamente sto scherzando Enrico Apprezzo e ti osterò ASAP Quando andrò giù e tu sarai live Hank ti ammiro molto E seguo tutti i tuoi gameplay su Terraria acquatica Benvenuti a Enchini ragazzi Come dico sempre Grazie per i follower ragazzi Se non mi conoscevate Grazie a Dio che Enrico Vi ha portato qui Veramente Marco Nose Grazie per il follower Encazzi Dubito che si chiamino Encazzi Perché suona molto male Preferisco Enchini Oppure Enchini Oppure Bocchini Sempre volgare Non va bene Ti dedico freestyle Hank Senti qua Ti dedico questa bomba King Pronto Hank Te la dedico eh Ehi Grazie mille per Lost Mi assicuro che il mio ragazzo di Torino Sia tutto a post Sì Tu sei un tipo Toast Mi ricordo quando a scuola Picchiavi la bidela con la suola Che King sei Mi ricordi Ming Sei l'imperatore cinese E te lo dico palese Io so cucinare E un giorno ti cucinerò Un po' di barbabietola a mare Già Grigliata Tutti insieme Ti racconto questa serenata Sto anche studiando il canto Così assieme a te Mi vanto Senti come a zecco tutte queste note Il cannone per di carote Il cannone con le suore Va a fare Non so perché vado sempre su questo tema Forse qualcuno da piccolo Mi ha fatto cadere dall'altalena Chiamata vita ma non è finita Ricominciamo questo flow E andiamo sempre al top bro La gente fa beat pop Soprattutto a Napoli Ne rimangono quattro Andiamo scaltro All'ospedale Te l'avevo detto che ti facevi male Il petardo lo devi buttare bro Che stile eh Che stile Te lo dedico Hank A tutti gli hankini O Hankazzi O semplicemente fan di Hank A Enrico Mensa Cantante Programmatorio Soprattutto umano validissimo Grande Grandi Grandi Encore Belli Encore Belli Benvenuti nella landa degli evocatori Chi è pronto a vedere una pentagill Perché io sono prontissimo Volete vedere il paolo che ti riguarda? Vediamole insieme allora Vediamole insieme Vediamole insieme Contro ecco Magic existence No Hanno già gradissi Allora va bene Tirato a cu di merda Tira Questo qui non ci so affedare Ho perso il mio perché sono Ok Bravo Bravo fai sentire i tuoi 22 cm sulla testa di chi non ti capisce sappi che un giorno ti donerò una rene non si sa mai che ti possa servire non mi devi donare il tuo rene, vita mia porco d'ho trollato ho trollato di nuovo datemi un attimo che mi concentro dove è il jungle? ok penso anche alle cose importanti in mezzo al mio wave vinco io se non ho abilità vinco sicuramente io v non potrebbe essere bot side penso di aver cercato sul mio lo uccido di quello legnate non ho detto il mio rene io ho detto semplicemente che ti donerò un bene no ti giuro è stata una delle cose più pesanti che mi abbiano detto in chat mi è venuto proprio l'ansia di pensare che dove è trovare i reni ci sta Paolo non trovare non abbiamo fatto i 30 perfetti lui ha perso sicuramente più farm di me 18-19 e io c'ho più o meno da farmare baciami stupido sarebbe bellissimo frizzarla qua baciami stupido mamma che male al cuore tutto sbagliato faccio 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 ah ma con lo Ma arriva pure Wukong Vabbè a livello di Ah c'è Wukong Dove è Wukong? È Midlane Da topside Lo so È ovvio È qua Ah no sei proprio scemo Ok Ma manco nei film Ma manco faker le fasse robe Le scarpe Eh no ma questo me lo dovete dire voi ragazzi Non ho idea Ma aspetta me mi curo Ok Ok Non sanno giocare È la mia occasione di fare pentagin Ciao Paolozzo Come va? Bene Stenina Tu come stai? Questo non do già mai Vado mio Dio Chi è? Chi è? Diogo Diogo Grazie per i cinquanti Sto bene Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Oh jeez. Lo chi da. Oh sono comunque più forti di lui credo è stato ucciso L'ho potuto uccidere, eh? Lui è... Allora, lui è pessimo, ma io lo giuro da male, cazzo. Comunque, non è ancora abbastanza, ragazzi, non ci voglio credere. Posso giocare ancora meglio di così, però sapete cosa? Devo entrare nel mood di essere meiaso, devo pensarmi meiaso. Io sono meiaso, è quello il segreto. Dai, dai. Adesso... Adesso vi faccio vedere una cosa che direte, ma che cazzo, non è bravissimo. Dai, io sono meiaso. Lui è un segreto affedale, quindi... Avviciniamoci, avviciniamoci, avviciniamoci. Questa era la meiaso, non ne ho sbagliato nemmeno uno. Abbiamo qua una placca. Poi dovrei arrombare anche un po' di più, secondo me. Grazie, Baolo. Prima di conoscerti ero scarsissimo. Ora che vedo le tue live, sono diventato più scarso di prima. Lo immaginavo. 22 buone feste, Stellina. Ma batte l'affanculo, non ci ho pensato. Mi sono estratto, mi sono estratto, mi sono estratto. Ma va bene così, ragazzi. Ci siamo. Rimaniamo focus. Siamo meiaso. Io sono cinese. O giapponese, qualsiasi cosa sia Yasuo. Andiamo a bot. Adesso non mi distrago più. Vedete, è veramente la creme della creme di Yasuo. Mi ci sono voluti due ore per entrare nel mood, ma ora ci sono. Pink. La tua squadra. Quelli 1v2 li uccido. Morgano alla ulti. Ash ce l'ha. Io ho il windwall, io ho la ulti, io ho l'arco scudo. C'è Wukong bot side. Questo push è inutile. Mid lane ci deve essere katy. Abbiamo preso la torre mid lane. Qui c'è Wukong. Ecco, benissimo. Se quello fa la palla li uccidiamo. Siamo 3v4. Ma secondo me vinciamo uguale. Sì. Mi devo stop ne finisce l'altra. Sì. Basta, mi stupido. Bella baolone. Vado mid lane, basta. Non seguiamo i cold uno. Non so perché sto seguendo i cold uno. Dovremmo noi dire cosa fare. Allora Avviciniamoci in caso che lottiamo Potte deve andare uno Ci va andare io Per qualche motivo sono venuti tutti i midling Allora, questi mi countano Possiamo vetare Io sono me in Yasuo Io sono me in Yasuo Io so anche farmare E push un'altra Perché quella c'è il messaggero Bastarda Me l'ho pensata diversa Vabbè, volevo fare flash prima Vabbè Stigato Baccia, mi stupido Bella Baulone Come hai passato queste foste? Hai mangiato bene? Io per Natale ho mangiato dell'ottima formagella e baccalà fritto Tanti auguri ancora ti voglio tanto bene 22 minore di 3 Levels Grazie per i 4 mesi king Io sto bene Le vacanze Abbastanza avvilenti Perché non ho fatto né cenoni natalizi Né capodanni Ehm Non sono stato con la mia famiglia I miei amici di giù Però non mi sono lamentato Sono stato qua E ho fatto quello che dovevo fare Sto imparando a cucinare Piano piano Le imparate dal forno sono molto facili da fare C'è un'attività Perchè ancora la 可以了 唉,我來冷貧一點 avevo paura che mi ultaccia, non c'ho il windwall, sennò ci partire vaffan... ho tancato più compiutore io che un chogat late game, porco due terzo item... ginzo secondo me la ginzo ci sta molto bene qua blottrister, ok ragazzi secondo me posso fare pente che sto game devo farmare più o meno però non posso cocciare i miei fan... dicendogli che devo farmare più o meno se poi non li farmo io è ridicolo baciami stupido bella Omer Blix, grazie per il suscrito, Stellina eccomi Bauer, sono tornato dopo una piccola ricerca tra i miei contatti hai preferenze sulla nazionalità dell'ex proprietario del Rene? ho pronto un italiano, un etiode e un finlandese io personalmente consiglio il finlandese non ho stato ucciso non ho stato il primo non ho stato ucciso non ho stato ucciso venuti credo ci sono un caso fai che tilehò forse aiuti la tua squadra ha distinto il minuto la tua squadra ha distinto il minuto sai che tiro che me la faccio qua mi danno 200 gold lui me ne danno altri gold avviciniamoci perché qua oggi ho paura a finire il game la venta non la faccio la tua squadra ha distinto il minuto va bene niente pentekill ma sicuramente molto meglio nel game di prima dai lo abbiamo passato il 60% focussati dobbiamo aumentare un po' con il minuto le meccaniche ma io sono yasuo main l'infinito non la faccio